Buonasera a tutti, diciamo che questo progetto, il progetto di SmartUp, il programma di accelerazione SmartUp rappresenta una buona pratica regionale, rientra proprio anche nella volontà sistemica di ridefinire un po' la pelle della nostra agenzia di sviluppo, che sto focalizzandola proprio maggiormente su questi temi di sviluppo e raccogliendo un'istanza forte che c'è nel nostro territorio che è un'istanza di innovazione. Vedete, esiste una discrazia tra quella che è la vitalità del sistema delle imprese, la vitalità delle idee che maturano sul territorio e la capacità di questo territorio di valorizzare idee, progetti e imprenditorialità in un qualcosa che abbiano un collocamento di mercato, in brevetti, in processi produttivi, in nuovi prodotti. Ricordiamoci che siamo fra le regioni che hanno, forse l'ultima regione in Italia, per numero di registrazione di brevetti sul registro europeo dei brevetti. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che anche laddove l'innovazione nasca nel nostro territorio, questa innovazione non trova valorizzazione nel nostro territorio, non si traduce quindi in prodotti o processi produttivi che escono dalle nostre aziende. Per questo, quando iniziò questo progetto, vedo qui Rosatelli della Fondazione Ricerca e Imprenditorialità, e ci troviamo, mi ricordo, nell'aula magna, anzi nella porta a fianco a quella del direttore, la mia cara amica Alessia Macchia, del Sant'Anna, ricordo che ponemmo questa sfida forte che ci ha portato a intraprendere questo progetto, che è un programma di accelerazione appunto, che ha visto crescere noi insieme alle aziende che abbiamo accelerato. La vera forza di questo programma è che il sviluppo umbre, i consulenti che sono stati coinvolti, ma noi stessi che ci siamo appassionati, compresa la dottoressa Michela Sciurpa, che fin da subito è stata una delle principali assertrici di questo progetto, abbiamo appreso nuovi strumenti, nuove metodologie. Tenendo conto che oggi, se in Italia c'è una politica dell'innovazione che è totalmente carente e latente, dobbiamo sottolineare che forse la motivazione è proprio nella mancanza di una cassetta degli attrezzi da mettere a disposizione a chi ha un'idea di impresa, a chi vuole costituire un'impresa, a chi vuole generare innovazione e che non trova risorse, perché le risorse non sono mancate mai a supporto dei progetti di start-up, ma quello che è mancato è la strumentazione. Si danno risorse, si finanzia un business plan e lì finisce tutto. Ecco, il programma di accelerazione smart-up è un programma che invece ha avuto come punto fondamentale quello di prevedere e cominciare ad attivare un dialogo fra i nostri esperti, i nostri consulenti, in un rapporto quasi sinergico che li ha accompagnati in un rapporto one-to-one, questo è già uno dei primi elementi, noi non abbiamo dato soldi alle aziende selezionate, abbiamo accompagnato le aziende selezionate in un percorso pre-competitivo che li ha portate non alla presentazione di un bando, ma di un link canvas, che significa aver elaborato un documento che altro non è che una metodologia per cercare di dare basi solide al progetto di innovazione e cercarlo di accompagnare nelle vari step che caratterizzano un progetto del genere, portando l'imprenditore a confrontarsi con il livello di maturità della propria innovazione, fornendo anche delle strumentazioni che rendevano lo start-up in grado di capire qual era il livello di maturità, che è non solo tecnologica ma anche il livello di maturità manifatturiera, la potenziale attrattività di investitori, questo è un tema fondamentale, perché quando si ha un'idea si pensa a quell'idea, si pensa di quell'idea fondamentalmente come qualcosa che risolve un problema, ma poi non riusciamo a capire come quella tecnologia potrà evolvere nel tempo, qual è il quadro di riferimento alla risoluzione di quei problemi, qual è l'implicazione in ambito produttivo di quell'innovazione, piuttosto che quali sono le esigenze, i famosi seed di finanziamento, di cui quell'idea ha bisogno per trasformarsi in un progetto d'impresa che poi abbia una redditività prospettica. Ricordiamo sempre che quando noi parliamo di venture capital il criterio di valutazione è quello della redditività prospettica in un business plan, dell'EBDA si usano moltiplicatori a seconda del grado di innovazione dell'azienda, ma questa capacità di prospettiva in un orizzonte temporale lungo significa che in quella prospettiva noi dobbiamo già far capire, qui la cassetta degli attrezzi, a chi vuole diventare imprenditore che il suo fabbisogno non è solo ad oggi con l'esigenza che l'impresa ama oggi, ma quello che avrà nel momento in cui affronterà la costruzione di un prototipo, l'industrializzazione di quel prototipo, la costruzione di una rete commerciale, piuttosto che come accompagnare queste diverse fasi con il giusto fabbisogno finanziario a supporto di questo suo processo imprenditoriale, percorso imprenditoriale. Da qui nasce la volontà dell'investor forum, ovvero non solo mettere a contatto potenziali aziende, potenziali inventori, potenziali imprenditori con il mondo della finanza che è in grado di accompagnarli in base alle esigenze e al livello di maturità che quell'innovazione ha, quindi non solo TRL, ma anche la maturità in termini proprio di tecnologica del prodotto, ma anche di poter entrare sul mercato ed entrare in un ciclo di produzione, ma noi dobbiamo anche prepararli, perché sappiamo benissimo che quando qualcuno ha un'idea, imprenditoriale non c'è cosa più difficile di trovare un finanziatore e di andare dal finanziatore con le giuste argomentazioni. Spesso la nostra esperienza ci insegna che l'inventore è così convinto della sua idea che spesso si concentra solo sulla bontà dell'idea, quindi su quello che quel qualcosa, processo produttivo, prodotto, soluzione, quale problema risolve, ma non focalizzandosi magari sulla rilevanza di quel problema, non focalizzandosi magari di quali ambiti di applicazioni totalmente diversi o quali problemi totalmente diversi quel prodotto magari utilizzato in altri settori potrebbe avere. Ecco, la capacità di mettere in contatto il mondo delle invenzioni con quello dell'impresa significa cercare innanzitutto di capire come aiutare i nostri start-up, per da qui l'importanza di un investor forum, noi non ci limiteremo a metterli in contatto con il mondo della finanza, ma li prepareremo in base a quella fase del ciclo di vita e dell'innovazione a presentare la propria domanda di richiesta di finanziamento tenendo conto di quelli che sono i criteri con cui i finanziatori ragionano. I finanziatori non si limitano a dire, ah, questo è una buona idea, gli do i soldi. Incominciano a ragionare con quella logica che vi dicevamo, quali sono le prospettive future, come a volte il quadro tecnologico, di quante risorse ha bisogno questa idea per diventare un prototipo, per trasformarsi in un processo produttivo, quando vedremo i primi ricavi. Allora, preparare gli investitori, gli imprenditori a un incontro con gli investitori richiede anche in questo caso un percorso di accompagnamento. E questa è la filosofia di smart-up. Smart-up non ci mettiamo a dare soldi e a gestire delle procedure. Noi vogliamo accompagnare i nostri inventori al mercato e a un'esperienza che abbia quello che l'economia si chiama non solo una sostenibilità economica a valore del tempo, ma una renditività prospettica adeguata. Tenendo in conto che, come è vero che l'Italia ancora, il mondo del venture capital ha avuto una tendenza, è stato sempre sottodimensionato rispetto all'esperienza anglosassone rispetto a quelli statunitensi, quindi il concetto di capitale di rischio applicato all'innovazione, è anche vero che siamo in una fase di controtendenza in Italia, che è stato un paese sempre morto. Il mercato del venture capital sta avendo un incremento, un dinamismo nuovo mai visto prima, mentre a livello mondiale assistiamo, forse perché c'è stata tanta innovazione che è stata assorbita dall'impresa, assistiamo a un dinamismo un po' inferiore. Quindi questa è una stagione straordinaria per presentare e per proporre programmi come questi, tenendo di conto che in Italia gli investimenti in virtual capital hanno raggiunto e superato il traguardo di 2 miliardi di euro con un incremento di raccolta di più 67% rispetto al passato, sicuramente un ruolo fondamentale ce l'hanno avuto gli investitori istituzionali, non è banale tutto quello che è stato fatto con il CDP Venture, ma vuol dire che sul mercato stanno nascendo molti fondi, anche fondi chiusi, che stanno cercando opportunità in giro per il paese per fare innovazione, per entrare nel capitale magari di aziende promettenti, ma anche in questo gli imprenditori vanno preparati, perché quando un finanziatore entra all'interno di una start-up bisogna capire le modalità con cui entra, spesso il suo contributo è valorizzato in interventi di supporto in equity, in capitale, spesso l'equity viene valorizzata con le consulente, con le capacità e relazioni che l'investitore può portare, tanto per capirci, se siamo in un contesto tecnologico, l'investitore che è in grado di portare un tipo di expertise tecnologico sull'industrializzazione probabilmente in parte metterà capitale, in parte mette quelle capacità che l'imprenditore non ha sotto forma di consulenza, che avrebbero anche un peso sul mercato e che vengono valorizzate a livello economico. In tutto questo gli imprenditori, gli aspiranti imprenditori dovranno confrontarsi con un exit strategy, perché spesso questi investitori hanno obiettivi di investimento che hanno tempistiche diverse, cambia tantissimo l'investimento nel primo miglio, cambia tantissimo l'investimento nelle fasi successive, ma quasi sempre si prevede una strategia di uscita, quindi già nella fase iniziale va contrattata la strategia di uscita. Ecco, in questo percorso di accompagnamento all'investor forum noi cercheremo di accompagnare i nostri imprenditori a costruire la proposta con gli strumenti che la cassetta degli attezzi che noi gli metteremo a disposizione li renderà in grado di dialogare con gli investitori secondo le regole di quel mercato, che è un mercato molto diverso da quello del direttore di banca a cui bussiamo perché è normale quando si fa all'inizio Family and Friends, la famosa fase del Family and Friends, la prima parte di raccolta per mettere su un'impresa, è qualche amico che ci crede, è qualche familiare, poi si incomincia a bussare qualche banda locale, banca banda ogni tanto la differenza è sottile, qualche banca locale e nelle fasi successive però il ha bisogno finanziario, cresce anche le modalità con cui questo viene erogato. Tenete conto che in questo grande mercato del venture capitalist la nostra regione è riuscita ad adattare solo 3 milioni di euro, c'è un'interessante esperienza di un fondo chiuso che è stato chiuso, è stato raggiunto il target da poco e che si sta muovendo in maniera dinamica sul territorio ma ad oggi noi siamo terzi per attrazione degli investimenti sul mercato del venture capitalist dopo solo Marche e Sardegna, quindi dopo di noi ci sono solo le Marche e Sardegna che vanno peggio, Marche che però hanno una maggiore capacità di brevettazione perché a fronte alle 29 brevetti che vengono registrati in Umbria, nelle Marche ne vengono registrati 90. Quindi siamo in un momento estremamente importante, l'obiettivo è quello di portare in Umbria investitori selezionati, selezionare imprese che hanno questo potenziale da poter entrare, primo miglio, step successivi, round di funzionamenti successivi però in un processo di innovazione, cosci che in Umbria al di là dei numeri c'è un fermento e una capacità di innovazione che è non solo promettente ma meritevole di essere accompagnate al mercato. È quello che noi vogliamo fare con questo progetto, Smart Up non è finito, non finisce con l'Investor Forum, anzi oggi a tutte quelle aziende che sono collegate, che non hanno partecipato al primo progetto di Smart Up che ha visto diverse fasi, l'accompagnamento, la fase iniziale, i follow up successivi, invitiamo a rivolgersi a sviluppo Umbria perché chiunque può avere oggi un'idea innovativa troverà all'interno della regione, ma all'interno dell'elemento strumentale della regione che è la sua agenzia di sviluppo, una realtà pronta a sostenerla, accompagnarla in una logica continua di innovazione, alcune partono, alcune si muove dall'inizio del percorso e quindi vi invito, chi non l'avesse ancora fatta, a contattare l'agenzia per un primo incontro per capire come dare le gambe la vostra delle imprese, come poter costruire con voi un percorso di accelerazione personalizzato, come magari coinvolgarvi direttamente ora perché non necessariamente poi l'Investor Forum sarà rivolto solo all'azienda di Smart Up perché se noi vedremo sul territorio altre aziende che noi riteniamo abbiano caratteristiche e maturità per accompagnare gli investitori è un matching che noi nel corso dell'evento faremo. Ecco, bussate alle nostre porte, bussate alle porte dell'agenzia di sviluppo, credo che questa sia una sfida entusiasmante e una sfida che è stata colta dalla nostra agenzia, dopo di me credo che dovrebbe parlare Michela Sciurpa poi che dovrà far sì che poi l'agenzia accolga voi tutti e trova e vi metta a disposizione quella cassetta degli attrezzi. Tramite l'agenzia, tramite consulenti qualificati esterni, noi siamo in grado che, la cosa interessante è che hanno formato anche la nostra agenzia, la cosa virtuosa è stata quella, i nostri consulenti non solo hanno aiutato noi ma hanno aiutato noi a predisporre quella cassetta degli attrezzi che poi noi mettiamo a vostra disposizione. Quindi in bocca al lupo a tutti inizia una grande sfida, il primo investor forum che siamo è stato organizzato in Umbria, quindi la sfida è grandissima, noi siamo pronti a ricevere le vostre idee, a metterle in contatto con la finanza, sperando che molte di queste siano oggette di finanziamento e possano trasformarsi in aziende che rendono orgogliose il territorio e che diano anche a noi amministratori un po' l'orgoglio di aver contribuito in qualche maniera al successo della cosa più bella secondo me che c'è, che è l'attività di impresa. La vita dell'imprenditore è una vita bellissima, sfidante, complessa, complicata e pensare che c'è qualcuno che nonostante tutto, perché nonostante uno Stato che spesso non si è sempre rivelato amico dell'impresa, sento ancora il bisogno di intraprendere questa strada, a noi non può che riempirci di orgoglio.